Il minuto di oggi è col sindaco di Conegliano, Bruno Zambò, per parlare del futuro di Conegliano. Oggi siamo qui per parlare d'arte. L'arte quanto è importante, la società? L'arte è importantissima. La storia di Conegliano è una storia che si lega all'arte, si lega all'architettura, si lega ai paesaggi del cinema e credo che quindi fare riferimento all'arte moderna e all'arte antica significhi fare riferimento a qualche cosa che può essere importante. Facebook, i coneglianesi incazzati, si chiama così la loro pagina, parlano di Via 20 Settembre, dove siamo? Qual è il futuro di Via 20 Settembre? Il futuro di Via 20 Settembre è già nel suo essere. Via 20 Settembre è il salotto buono della città e come tale va gestito. Certamente ci sono tanti punti di vista, ci sono tanti interessi, ci sono tanti bisogni e bisogna cercare di consigliarli. Credo comunque che giornate come questa, con una mobilitazione che può avvenire attraverso i circuiti della cultura e attraverso un afflusso su Via 20 Settembre dettato proprio dalle sue caratteristiche, non possa che aiutarla a rimanere così un luogo dove si può stare, dove si può socializzare, dove si può incontrare, dove si può fare anche shopping, perché è giusto che ci sia anche l'attività dei commercianti, l'attività del centro commerciale naturale, quindi ritengo che Via 20 Settembre Piantianino stia trovando la sua identità attuale.